Metti il pilota stragasato quando sparavano in tossico Ah ma a me ti è piaciuto quando io ho ammazzato due carri insieme di quei gazzoni Ci sono qua asciottati Lo sai perché? Ah mi chiede Ho sicuro che a te ti è casato quando ho sparato in tra caverna col mitraglioni No ma hai ammazzato nessuno tra l'altro Eh perché mi accucciavo per me sparavano in mille i cecchini schifosi Ma sai perché avevo quel carro? Ho rotto i coglioni o ti giuro di crepare di continuo per tutti i carri Li tiravo 3-4 e le pg non crepavano mai Alla certa sai cosa ho fatto? Visto che avevo i punti Ho chiamato il carro lì Ho fatto gli schiera instant L'ho preso io figa l'ho buttato giù Ancora prima che arrivassi te tutti i carri che beccavo li devastavo Strapotente che lo li ha Sì sì one shot a figa non tiravano un cazzo poi Ma più che altro mi fa ride perché io gli do solo il mitraglione straconvinto Poi vedi quella mappa è diragnata dai carri perché troppo Poi guarda che il mitraglione sopra E' strapotente è un po' Quello del soldato lo so Eh quello che si è esposto Cioè muori come un coglione eh però Sì sì io so questa volta Forse meno cosa le gente ha fatto questo gioco BOMB IS COUNTING DOWN Ma da me ce n'è uno nascosto ma non lo vedo Purtroppo devo giocare la camperosa perché devo fare sensazione Buono assistenza uccisione 3 Una bonna uno non morte Uno ti rompi il cazzo devi fare così devi chiamare per il carri riri devasti tutti porco di dirvi perché veramente sono un botto Poi secondo me gli fai troppo poco danno, cioè tu soldato single gli fai troppo poco danno Perché dicono, eh no, abbiamo un gioco di squadra, il cavolo lo dovete attaccare in squadra, ma va a cagare, va Coglione Cioè che penso io a questo No, la donna L'eroe dei due mondi Ho fatto una provata col mitraglione, col pistole e poi il mini-launch L'americano, comunque è più bella la voce dall'inglese Eh sì, ti ho convinto Ti chiamo, avevo appena rianimato, sto varmi cazzo, va, è essere già morto C'è un cecchino a merda, chissà dove Dai, però, va subito per ameno quadrato, comunque Porca troia, oh Oh, non ti danno il tempo, eh No, no Mamma mia, oh Sto vizio, le spavano in istante Che cazzo serve per riparare sta catafecchia di Regno? Eh, i zombie Poi questa qua non si può arrivare Ah, qua non va, qua non va, andrewd Eh, ok Siccome l'ho preso in testa, ho un shotato Sì, è anche lui Hai ucciso o no? No Ancora che chiede Nenzo Dai, c'è gente su all'alto Cazzo dico qua Sento pazzo Eccola Dio, un altro sdraiato, l'ho visto Prove? Oh, maniera che precisione Ma è pieno, va Eh, no, dicevo di averle, ce ne so Anche mi hanno scritto Cazzo stanno Eh, senza ben gara Se te che spari No No C'è la bulla a casa Perché sta col supporto Ma dov'è? Ci sembra, uno con le ganciapiamme Era, erano con le ganciapiamme Eh, ancora c'è gentile Che prole Dai, due per te anche nostro, dai Fallo fuori Ma più bello che sicuramente non si muovono mai o mai No, no Non si muovono mai infatti io me devo allontanare perchè se devo sparare e ce la sono più loro se tante volte cosa devi fare? devi aspettare che sbuchi il coglione che si alza così dopo sgambia anche il camperone ecco lì sono tipo dentro dentro le zone lì vedi a casa ospitare a resisto trapassi i mui figli e ammazzavi tutti si è pienissima è tutta rossa eh guarda di che serve falsa oppressione prima è tutta rossa dobbiamo aspettare che arrivino gli arrivati che non arriveranno mai siamo come Pearson quando chiamò i rinforzi che non sono mai arrivati cesi bastardi capito uomini rifornimenti sono arrivati giappo minchia e dai arriva il cecchino va senza mirino porco dio dentro a casa ho più defigato la fine strega eh parca troia va sai perchè mi ha ammazzato perchè non si è vivo da no c'è alla rocina lì alla si è sposta ma cagava ma io queste cose non le sopporto c'è da ammazzare non perchè è bravo ma perchè non mi fa vivo da porca puttana fanculo che proprio cazzo siamo stati su qua bandiera la fine cazzo cazzo arriva nessuno ma nessuno nessuno vabbè appena sporato mamma mia però poi nell'angolo che bandiera risponato ma la sosta anche quella vecchi l'assalto la sconda donna camperato con la web spavano su di perché sono tutti i vaff c'è ma poi dico ma porca puttana un campero io col supporto mitraglione campionato con il medico c'è proprio famiglio famiglio del cazzo ma poi sai di te anche qua con i nemici ci fai caso che sono qui in mezzo a 15 soldati alleati non gli arriva mai niente che forza belt che ultimo non si è bidola però su tre missili gli ho buttati comunque dopo cazzo c'è questo vai cazzo c'è questo c'è due quello suoi no ok cazzo cazzo fai i mitragioni sono strabetico peccato sono sto venti di merda ma un po uccidono anche in piedi ma sai cos'è sono troppo e prima che ti metta lo zoom è stravento si ma ero troppo spread dai reale sai che io nella realtà diceva il 98 io ho tolto 98 98 98 porca puttana c'è chi non può provare ucciso no 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 non lo so mettete più di ollo cacciano di merda ovviamente di lato che faccia quando scappare uno qua due sia tirato sponare gioco del cazzo fa spalluti su F non c'era nessuno sono arrivati tutti tutti Anche il caro armato non sporgerti C'è guarda 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 stagliato con l'assalto porca puttana Stagliare con l'assalto non ci porto con l'assalto Stagliare è quello che è morto verso di C'è straia di con l'assalto Non ha fastidio ma non devo uccidere così Non ha senso Perché cazzo che non giova così Non c'è un'altra cosa Con l'assalto come vedi Guarda puttana Aspetta ma che cechino Non svegli mai con cechino E' un coglione che deve stare con cechino C'è c'è un botto C'è chiaro Sì, è vero. Morto? No, no Aspettavo di prendere la bandiera, tanto stava qua sdraiato che ci incuria, vedrai C'è uno scarso di merda Doveva perdere lo scontro, figa Anche qua c'era gente prima Hai sentito? Vedete invece quando fa E' un cazzo oggetti e fax E' una voce degli americani sempre incazzati straforti Poi da ogni guerra vogliono sempre aver ragione E' come tutti quello Sempre dalla parte del giusto Merda qui c'è un tempo Dove? E' l'ho messo il film, tutto defilato, tanto c'ho fangato E' problema che adesso non gli faccio un cazzo Aspetta, provo a tirare la mina al culo Massimo segreto Attivo l'attenzione su questo lato Aspetta, ne so far giro stralargo Ecco il momento buone a questo Appena si ferma, il momento decisivo Dai, torto un botto Oh Un momento decisivo e critico Ma perchè si barta al cao quando muore Sembrano qui gli scarafaggi So vengo in culo con la mina e levi un po' Proprio Il problema è che poi muori subito dopo Qua Sto sparando Ma che non ho il mirino io sul grano Perchè non mi piace, ho il mirino che non esiste Io uso metallo Oh L'aereo Sai lì ho tolto una marea Con un draione Si ma dai ma che cazzo te ma lo spawnare lì Quello di poverino figa sono riuscito a prendere Una prima volta invita sui muori Che cazzo le sparavano il gabbiotto con Non potrei neanche perforarlo No, no, infatti me ne vava uno, due Anche poi arrivata gente su F Cioè su di pieno Ovviamente pieno Non arriva mai uno o due pieno Vengo colpito a 99 Scappa Lascia la stare Lascia la prendere Impossibile E' tutta rossa Un altro aereo Un altro aereo Adesso spavola il nostro Guarda che è arrivato il cargo Dai spawniti Oh merda Se muori O muoio Possiamo chiamarci il cargo Quello proprio Perciò E' uno che spada da qua no? Eh, ma io non li fai mai hige però No io vedo però Ecco uno qua E' un altro eh Ecco E' una rotazione cazzo insomma c'è ancora gente modificata cazzo cazzo buono apriamo inizioni incendiarie io ma che ha detto è veramente un senso di aria ma ma nella straforte non ho smigato proprio un voto è stragata il migliorio anche il grano sono quelle classiche no un po come a iniziare mp40 il cazzo giusto il gameplay che non capisco di merda ma c'è gente eh nooo proprio quali che forza non so che io appena mi esattivo ammazzano tutti i bambini in test non è morto non muore nessuno tanto a maria così 152 170 eh uno è morto mi ha detto pure beh c'è anche un cecchino occhio è mia qua un'istoghi velbero un'istogho dai salendo a me lo copro io dai insistenza ucciso in altri c'era un altro straiato dentro il mink stai animando proprio qua dentro però io non ma se la marea posto un coglione domina ritrae monti non massaggio anche perché sono passati anche a entrare è proprio guarda che gioco guarda che gioco guarda che gioco guarda che gioco di merda ho preso due volte con testa ma tanto no e si è matto e a quello con il kp7 a live da porca puttana dove è morto sono scurito era lì con la morte ovviamente ma massimo perché mi hanno visto da dietro gioco di merda ma la nostra morte non la vivevo qua gioco del cazzo perché lui ha contato legge ho capito già panino c'è gente proprio sulla spiaggia c'è chi non ha ammazzato ma c'erano altri fatto su questo c'è la storia sento l'antico infatti passiva è ovvero per rimanere con due le vita o ma questo gioco è proprio fatto male o porca puttana sembra che parte deciso già prima di dimorino scontro dove c'è già deciso è scappato su parte di bunker ma io sparato da dietro capistoglio torte 97 con tre di vita devo appoglio c'è un caro di lavato si è quanti cazzo sono 300 o più di un testo da contano che vuol cazzo che ammg tanto da massangheu e regere che quale il problema l'ho ucciso di parte assistenza uccisione ammazzano spagano il nostro cico libero se non le avevano da lontano l'emmg che cazzo c'è buttata ancora artiglieri ancora quello che è vero ancora quello che è dentro al bunker dentro al bunker che palle o che palle sta gente che palle o stilosi con mamma mia sempre lo stesso lo ammazza e se li mette o non c'è qua dentro uff orca troia o senti i passi ma mi sa che sono sopra mi sa che si chi era lino sino si 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 tanto da gli due secondi si mette qua ma escono la guarda lui ma altro ha detto detto che to' dito 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 assistenza assistenza mandato faccia che t'ho detto dopo tutti insieme bombare morti da me dove fa sapere che scala i ticket aveva un po' più puoi essere già che animato che so che t'ho detto quello lì chi era lino merda l'evo abbiamo vito ma tu guarda il punteggio che ha fatto cioè guardalo straforte per mitraglione ma pure la mimetica ci ho messo squadra migliore in tre soli tu